A pochi giorni dalle elezioni europee in programma in Francia, domenica 9 giugno, la campagna elettorale entra nella sua fase finale. Il prossimo fine settimana, quasi 50 milioni di elettori francesi sono chiamati a scegliere 81 deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo. Tra gli ultimi comizi, quello di Jordan Bardellà, il candidato del partito di estrema destra dell'Assemblement Nazionale. In un altro comizio vicino Parigi, il primo ministro Gabriele Attal ha invece invitato gli elettori a lottare contro l'ascesa dell'estrema destra. Attal sostiene Valérie Ayer, la scena di la candidata all'europeo del partito di Macron. Testa a testa con il partito di Macron per il candidato socialista Raffaele Glucksmann, che ha incontrato sabato gli elettori a Marsiglia, promettendo di essere la grande e bella sorpresa di queste elezioni. Glucksmann si è rivolto ai giovani francesi contro il pericolo di estensionismo. Simile l'appello lanciato dalla candidata di sinistra, Manon Aubry, rappresentante del partito, la France Insoumise, a Tolosa, davanti a qualche migliaia di sostenitori. Secondo le intenzioni di voto, la leader dei Verdi, Marie Toussaint, sarebbe per il momento sotto la soglia del 5%. La campagna elettorale terminerà in Francia venerdì 7 giugno. Grazie per l'attenzione. Grazie.